Musica Dinanzi al tuo supremo amore ci pervada la vergogna per averti lasciato solo a soffrire per i nostri peccati. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime perché il Medio Oriente oggi piange. Musica L'accordo è un processo da anni, un dialogo, fra la commissione vaticana e la commissione cinese per sistemare la nomina dei Vescovi. Faccia tosta! A tutti voi che avete partecipato a questo camminare insieme dico grazie. A tutti voi che avete partecipato a questo camminare insieme dico grazie. Grazie. Grazie.